Da Rieti, centro d'Italia, nel cuore della Sicilia, del segno della sicurezza stradale, arrivi a Cefalù, vedi un negozio che si chiama Delfin Office, entri e scopri Ciccio Delise, il quale ti parla a sorpresa di Willy Sojourner, il grande campione di basket che ha portato ai vertici dell'Europa la nostra squadra di Rieti, una mitica Coppa Courage conquistata con lui. Quindi quel Willy Sojourner, ahimè, che ha perso la vita in un incidente stradale e noi stiamo percorrendo in un tour le magiche vie della Sicilia incantata, proprio per dire basta vittime della strada. Ciccio, che c'entri tu con Willy Sojourner? Io ci ho giocato contro Willy Sojourner, io giocavo a Caserta in Serie A e andavamo spesso a fare amichevoli a Rieti, loro lo chiamavano affettuosamente Zio Willy, era una faccia da zingaro del basket, un gigante enorme, aveva delle mani, mi ricordo, è enorme, giocava a poker quando andavamo a volte a fare dei tornei assieme, mi ricordo a Foggia, e le carte non si vedevano, erano coperte dalle sue mani completamente, era un grande, un grande ci è dispiaciuto molto. Però io sono ancora legato a Willy Sojourner perché un giocatore che ha giocato con lui, poi, Angelo Destasio, è venuto a giocare a Trapani con me e abbiamo stretto una grande amicizia, questo Angelo Destasio ha detto no a tutto un poco la vita di noi europei e se ne è andato in Camerun a organizzare una scuola di basket per i ragazzi camerunensi, e sai come l'ha chiamata? Willy Sojourner School di basket, è riuscito ad avere pure 100, 1000 scarpetti dalla Nike, ci siamo mossi per cercare di attivare i ragazzi del Camerun che avevano problemi con la vista, per la cecità, abbiamo fatto raccolte, abbiamo fatto partite amichevole per Angelo, per questa sua iniziativa sicuramente incomiabile. Grande Angelo, e un ricordo nel nostro parlare anche di un altro grande personaggio del basket reatino, Pentassuglia. Pentassuglia era l'allenatore proprio di Willy, un grande allenatore, allenato da Brindisi, mi ricordo, allenato a Napoli, allenato a Rieti, l'ha portato alla vittoria di una Coppa Cora, ci ha tirato fuori giocatori fortissimi come Brunamonti, Zampolini, Saniesi, e poi c'era Willy Sojourner e Remili, facevano un quintetto eccezionale, e con loro giocava anche Angioletto, Angioletto Destasio da Catania, che purtroppo però ebbe un incidente, proprio una partita di Coppa Cora ci si ruppe un ginocchio, ma Pentassuglia ha avuto invece, come stai dicendo tu pure lui, un incidente stradale, cosa che io non sapevo e francamente sono rimasto pure io un poco perplesso, quindi stiamo attenti con queste macchine. Il grande Pentassuglia, anche lui accomunato dalla stessa sorte che è toccata al mitico Sojourner, quel Sojourner che era tornato a Rieti, sulle ali dell'entusiasmo, come direttore tecnico, richiamato con grande entusiasmo popolare, e che paradossalmente è venuto a morire a Rieti, ma a dare il nome al nostro palazzetto del basket, il Pala Sojourner, e Willy vive, continua a vivere in ogni partita in quel campo, questa ci sembra davvero una bella storia, un bel messaggio per i giovani, che in Willy possono trovare un grande esempio di vita, di professionalità, di amore per lo sport. E proprio in quel campo, Willy Sojourner, noi del Cefalù abbiamo ottenuto la mitica promozione in B1, noi siamo legati a Rieti, perché là abbiamo battuto sia il Castelletto di Cino che il San Marino, e quindi siamo approdati una storica promozione e abbiamo festeggiato per le strade di Rieti, che è una città pure stupenda. Rieti, centro d'Italia, nel segno della sequestra stradale in Sicilia, ma per raccontare anche retroscena della storia di Ciccio De Lise, il quale nasce a... Io nasco a 200 metri da Scampia, a Piscinola, il quartiere proprio periferico di Napoli, dove poi sono state costruite le vele. Ebbene, Scampia era la campagna di mio nonno, che aveva dei peschetti, faceva le pesche gialle, io da piccolo ci andavo là a passare tutte le mie state a raccogliere queste pesche. Poi dopo fecero questo quartiere dormitorio, ci furono le occupazioni delle case, per cui tutti i servizi che dovevano accompagnare questo grande quartiere non furono fatti, ma furono rifatti altri palazzi, altri grattacieli a più piani. E fu l'inizio di un degrado, di una zona abbandonata per tanti anni, dove a volte nessuno poteva entrare, dove la droga la faceva da padrone, dove quando io lasciai questa terra, c'era uno che gridava non vi drogate perché l'eroina è tagliata male. Cioè, storie assurde, erano morti cinque ragazzi perché si erano fatti di una droga, di un'eroina tagliata male in quel periodo. E lasciai, mi ricordo, Piscinola per andare a Trapani con il mio sax a giocare a basket e la mia borsa. Poi mi sono innamorato della Sicilia, è special modo di Cefalù, e quindi sono rimasto qua. Perché dico, chi viene a Cefalù, a casa non torna più. E ce lo dici in musica e parole, perché intanto abbiamo scoperto che Ciccio, fra l'altro, suona anche il sax. Ma diciamo, suona una parola troppo grande, diciamo, strimpello, il sax, strimpello, suonacchio. Proprio domenica abbiamo avuto un bel concerto, ci siamo divertiti con lo spettacolo Samba e Amore, abbiamo fatto musica samba, bossa nova e canzoni d'amore, dove abbiamo ripreso anche qualche pezzo di Pinotania, Fantastico, un messaggio finale ai giovani. Abbiamo trattato tanti argomenti, ma c'è un comune denominatore in quello che abbiamo detto. Ai nostri giovani dobbiamo dire, attenzione, vivete con la testa sulle spalle. Sì, io ho letto una cosa tua sulla tua televisione, se potessi tornare indietro di due minuti, quando si fa un incidente, ognuno pensa, ah se potessi tornare indietro forse stavo più attento a quell'incrocio e a quella cosa. Io ho un nipote che adoro, Lorenzo, che ha la macchina, sapere che va fuori in discoteca la sera con amici o questa macchina, mi raccomando non bevete in discoteca, ma soprattutto se andate in discoteca ci sono dei servizi a pochi soldi, veramente, così vi potete pure un poco lasciare andare in discoteca, ma fatevi accompagnare da questi otto posti, da questi servizi proprio discoteca, che vi vengono a prendere, vi accompagnano a casa, e poi anche se siete mezzi ubriachi non pagate, viene il giorno dopo e voi lo pagate. Ma l'importante è che non mettetevi alla guida in certi stati. Mio nipote non beve, non fuma, è un ragazzo d'oro, però io ho molta paura di questi giovani, sono aumentati gli incidenti nell'ultimo anno. Ahimè, Ciccio, molto spesso chi paga il prezzo dell'incidente è chi non è alla guida, è chi è il più bravo ragazzo del gruppo. Quindi mi raccomando ai giovani, diamo quest'appello forte, non mettetevi alla guida ovviamente in condizioni insane, ma non salite in macchina con chi non è in pieno equilibrio e consapevolezza. Non vergognatevi di dire io con te questa sera non salgo. Esatto, coraggio, non far parte del branco, avere la coscienza di dire no, non salgo, e se vi sfottano vi fanno buh, rimanete a piedi, seguite il suo consiglio di uno espertissimo, chiamate magari qualche amico, qualcuno che vi deve venire a prendere, ma non fate l'errore di salire ubriachi su una macchina. Parola di Ciccio Delise, dalle bellezze di Cefalù, dall'incanto di questo mare magico di Sicilia, con un abbraccio simbolico ideale, a Rieti, centro d'Italia. Grazie Ciccio. Salutoni a tutti e complimenti.